Una partita facile contro Virtus Catanzaro, punteggio mai in discussione, un tuo commento? È stata una bella partita, dobbiamo continuare così ad allenarci con grande intensità perché siamo una squadra che abbiamo ottime possibilità di poter vincere il campionato, però oggi nonostante ci sono mancate alcune pedine importanti come anche Andrea, ma soprattutto Brandon che spero torni presto a far parte della squadra perché è un ottimo aiuto sia dal punto di vista del gioco che anche dal punto di vista morale, ci vuol dare una grandissima mano. Forza 3 con la capolista campione d'inverno Rend e la mezza che è sempre lì e promette botti di mercato, che è il campionato di aspetti da qui fino alla fine? Guarda, io penso che bisogna sempre allenarsi, non bisogna mai dare nessuna partita per scontato perché rende, si è la capolista, però ancora non c'è nulla di decisivo, noi continueremo sempre a fare il nostro meglio e ci alleneremo tutti i giorni come stiamo facendo adesso. Come va con Coach Barilla? Sì, ci stiamo trovando molto bene perché ci sbrona ed è importante anche perché è un ottimo allenatore che ci dà molta grinta. Barilla